Di nuovo insieme amici di Telemolise per l'ultima edizione del nostro telegiornale. Buonasera e buon ascolto. Doveva essere l'ultimo saluto ad Adriano Orlando, l'agricoltore di Agnone morto in un tragico incidente sul lavoro. Invece il funerale ha avuto un epilogo drammatico. Infatti uno dei conoscenti del defunto avvicinatosi per dare le condoglianze ai familiari è stato accoltellato per ben due volte all'addome proprio dal padre di Adriano Orlando. Una scena terribile con la gente che fuggiva via terrorizzata. Ci dice tutto in apertura Enzo Di Gaetano. Incredibile quanto accaduto durante i funerali di Adriano Orlando. L'uomo di 43 anni di Agnone che ha perso la vita nei campi schiacciato da una pressa per le balle da fieno. Quando la messa nella chiesa di Sant'Amico ad Agnone stava ormai per finire, suo padre Gaetano Orlando, 81 anni, ha accoltellato, ferendolo gravemente all'addome, un suo conoscente che si era avvicinato per fargli le condoglianze. Lo ha colpito un paio di volte con un coltello lungo 30 centimetri. Subito dopo è scappato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Nel giro di pochi minuti lo hanno rintracciato nel cimitero e posto in stato di fermo. Subito trasformato in arresto per tentato omicidio dal sostituto procuratore di turno. Il coltello è stato recuperato e posto sotto sequestro. La vittima dell'aggressione, un uomo di 67 anni, è stato trasferito d'urgenza al San Francesco Caracciolo di Agnone, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. La pronunce è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire le cause che hanno spinto l'uomo a compiere il grave gesto. Sembra che tra i due ci fossero vecchie ruggini. Il pensionato finito in manette, alla luce dell'età avanzata, è agli arresti domiciliari ed è difeso dall'avvocato Francesco Del Basso. I carabinieri ora dovranno capire per quale motivo l'accoltellatore ce l'avesse con la vittima e perché la ritenesse collegata con la tragica morte del figlio. Indagare quindi su un eventuale collegamento tra l'incidente sul lavoro e la sanguinosa aggressione. Ed è per certi versi ancora più agghiacciante la storia che arriva dalla costa dove nella notte sul tratto molisano dell'autostrada è morta una donna di origini russe a causa di un incidente. Lei e il compagno stavano andando a sposarsi. Il servizio è di Fabrizio Occhionero. Incidente mortale nella notte lungo l'autostrada A14 in territorio di Termoli. La vittima è vera Lepichina di 54 anni. La donna di nazionalità russa si trovava insieme a un uomo di 65 anni della provincia di Foggia a bordo di una Renault Megane che intorno alle 2 si è schiantata contro un tir sul quale viaggiavano due giovani di Barletta. Per la donna non c'è stato nulla da fare. È morta sul colpo per le ferite riportate nell'impatto, con l'auto rimasta incastrata sotto al mezzo pesante e ridotta a un ammasso di lamiere. Il conducente dell'auto ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santimoteo di Termoli, dove si trova ricoverato solo qualche contusione per i giovani a bordo del tir. Le cause dell'incidente saranno accertate dalla Polizia Autostradale di Vasto Sud che ha effettuato i rilievi e, per consentire i soccorsi, ha deviato il traffico in direzione nord sulle uscite alternative. Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione la coppia forse era diretta al Consolato di Russia per sposarsi. Cambiamo argomento. È in programma domani mattina l'apertura dei cancelli dello zuccherificio per il ricevimento delle bietole. Il via alla produzione è possibile grazie a un'intesa tra le regioni e il Ministero delle politiche agricole. Rappresenta però solo una misura a tampone per sostenere questa campagna. Lo hanno ribadito i sindacati che a Campobasso hanno fatto il punto sulla filiera bieticolo-saccarifera e hanno evidenziato gli aspetti critici del comparto. Secondo Ettore Ronconi della Flai CGL nazionale, tutte le parti coinvolte nella filiera devono battersi anche a livello europeo per tutelare i lavoratori e creare le condizioni che diano un futuro sostenibile alla fabbrica. L'Università degli Studi del Molise e quella del Sannio si integrano e insieme potenziano il corso di laurea in Ingegneria. Previsti servizi gratuiti per gli studenti che si dovranno spostare tra i due Atenei, ma sentiamo in proposito Giovanni Minicozzi. Continua il processo di riorganizzazione dell'Università del Molise gestito con abilità dal Rettore Gian Maria Palmieri costretto a fare i conti con le disposizioni restrittive imposte dal Ministero. Il corso di Ingegneria a partire dal prossimo anno accademico verrà integrato con l'Università del Sannio. È stata sottoscritta infatti un'apposita convenzione tra i due Atenei limitrofi che evita i tagli e offre agli studenti nuove opportunità nel campo della formazione, della ricerca, dei tirocini formativi e delle opportunità di lavoro. I nuovi iscritti dovranno frequentare il primo anno presso l'Ateneo di Benevento, ma avranno a disposizione servizi gratuiti, compreso quello di trasporto e soprattutto potranno contare su un numero di docenti pressoché raddoppiato. Inoltre la Facoltà di Ingegneria viene trasferita da Termoli a Campobasso lasciando così nella città adriatica maggiori spazi per potenziare l'area turistica. Insomma, l'Ateneo Molisano non solo non perde la Facoltà di Ingegneria, sempre più richiesta dagli studenti, ma raddoppia le opportunità. C'è una domanda di formazione da parte dei giovani con riguardo proprio al settore dell'ingegneria che noi abbiamo voluto raccogliere potenziando un'esperienza già esistente nel nostro Ateneo, ma questa volta rinnovandola insieme all'Università del Sannio. È un corso di laurea interateneo che prevede una triennale e una magistrale, quindi è una filiera completa divisa in più curricula. Vogliamo così rispondere con un potenziamento dell'offerta formativa nel settore ingegneristico alle esigenze che esistono sul territorio. I corsi avranno luogo per una parte a Campobasso, per il primo anno soltanto a Benevento, ma ci siamo organizzati, Benevento non è lontano, offriremo agli studenti dei servizi anche di trasporto, di mensa. In qualche modo l'esperienza dell'interateneo vuole rafforzare proprio la potenzialità formativa in questo settore così importante per questa regione, così ricca di centri che hanno bisogno anche di una ristrutturazione. La laurea in ingegneria è un punto di forza che non può mancare nella nostra offerta formativa. Piena condivisione al nuovo progetto è stata espressa anche dall'Università di Benevento. Credo che sia importante la collaborazione perché noi che abbiamo aperto ormai i confini dell'Europa dobbiamo aprire i confini delle regioni e quindi come si può pensare che le università tutte in generale non collaborino tra di loro e soprattutto quelle che stanno su un territorio che è molto vicino. C'è stata la prima riunione del tavolo tecnico nella sede dell'assessorato alle attività produttive sul commercio. Al centro del confronto la necessità di rivedere la normativa che regolamenta il settore. C'era per noi Anna Maria Di Matteo. Commercio in crisi, piccole e medie attività che chiudono i battenti, consumi a picco. E la situazione allarmante del Molise non molto diversa dal resto del paese. Non a caso la conferenza delle regioni ha affrontato il problema nel corso dell'incontro che si è svolto a Roma nella Commissione Attività Produttive. E se nelle grandi realtà il commercio, seppur in crisi, tiene ancora, in Molise il settore è ormai al collasso. La liberalizzazione decisa dall'allora governo Monti con il decreto Salva Italia non ha dato i risultati sperati e l'accusa dei sindacati che ora tornano a chiedere la modifica della normativa nazionale di quella regionale. L'assessore alle attività produttive Massimiliano Scarabeo ha convocato per il 31 luglio il tavolo tecnico nella sede dell'assessorato. I primi ad essere ascoltati saranno i sindacati, poi toccherà alle organizzazioni di categoria. Un problema che non sembra essere di facile soluzione. Le parole di Papa Francesco, pronunciate in occasione della sua visita nel Molise, hanno riaperto il dibattito sulle aperture dominicali degli esercizi commerciali. Il pontefice aveva invitato i cittadini, le istituzioni a riscoprire l'importanza della domenica, il suo significato, un giorno di festa da dedicare alla famiglia. Partendo da questo invito i sindacati sono tornati nuovamente alla carica chiedendo con forza una radicale revisione della legge che regolamenta il commercio, posizione peraltro sostenuta dalle piccole e medie attività che non riescono a sostenere la concorrenza della grande distribuzione. Il tavolo tecnico dovrà esaminare quelli che sono i punti fondamentali della legge, gli orari, le aperture, le chiusure, le competenze. Un confronto che si annuncia non facile in considerazione del fatto che c'è chi tra i sindacati chiede la chiusura di tutti gli esercizi alla domenica, ma c'è anche chi invece sostiene che indietro ormai non si torna. C'erano anche i sindacati di categoria CGL Cisle Will alla manifestazione di protesta che si è svolta a Roma contro i tagli annunciati dal governo Renzi al sistema camerale italiano. Tagli previsti dalla riforma della pubblica amministrazione. Benvenga la riforma. Hanno commentato Susanna Pastorino della CGL, Ettore Cibelli della Cisle a patto che vengano salvaguardati i livelli occupazionali nel pieno rispetto della dignità dei lavoratori. La protezione civile del Molise è sempre più nel caos. Il consigliere delegato Salvatore Ciocca si difende dalle accuse contraattaccando, chiama in causa il presidente Paolo Frattura. Ho rispettato sempre la legalità e non mi dimetto, ha dichiarato Ciocca, ma il suo operato è finito sotto accusa. Allora sentiamo ancora Giovanni Minicozzi. Il comunista sui generis che vive nel lusso, Salvatore Ciocca, cerca in tutti i modi di difendere la sua poltroncina di consigliere delegato alla protezione civile e alla ricostruzione post-terremoto dagli attacchi che gli sono stati sferrati da più parti e lo fa nel peggiore dei modi possibile utilizzando un vecchio adagio che recita la miglior difesa è l'attacco. Infatti Ciocca reagisce mettendo sotto tiro tutti coloro, e sono tanti, che hanno avuto l'ardire di chiedere le sue dimissioni. Dunque i vertici dell'Acem, i precari della protezione civile, i sindaci del cratere e perfino i disgraziati terremotati che da oltre 12 anni vivono nelle casette di legno e non sanno ancora quanto tempo dovrà passare prima di poter riavere la propria casa. Il consigliere delegato va oltre e chiede al presidente Frattura se anche lui fa parte del complotto considerato che alcuni suoi detrattori appartengono al PD, ovvero allo stesso partito del presidente. La risposta del governatore al momento non si conosce, ma sarebbe interessante capire la sua posizione. Il comunista Ciocca dunque, mena botte da orbi a tutti, ma non risponde alle accuse, anzi ribadisce che a dimettersi non ci pensa proprio. D'altra parte, avendo dichiarato al fisco poco più di 7.000 euro per l'anno 2012, non può permettersi il lusso di dimettersi. Questo è comprensibile, ma Ciocca però dovrebbe almeno spiegare alcune cose che ci permettiamo di ricordargli nel seguente ordine. Uno, perché la protezione civile è stata smantellata? Due, perché ha mandato a casa 100 professionisti vincitori di concorso, tra i quali 15 invalidi appartenenti alla cosiddetta categoria protetta? Tre, perché ha assunto senza alcuna selezione pubblica persone nuove e forse senza titoli per operare in un settore strategico come è quello della protezione civile? Quattro, perché ai suoi proclami non seguono mai i fatti concreti? Cinque, perché la ricostruzione è bloccata da circa un anno e mezzo? Sei, perché si appropria del lavoro fatto dalla passata gestione proprio sulla ricostruzione? E per concludere, anziché ergersi a paladino della legalità, il consigliere regionale, Salvatore Ciocca, spieghi ai mulisani come fa a vivere nel lusso e con un patrimonio immobiliare e finanziario notevolissimo, ville, case, terreni e circa 500.000 euro variamente investiti con soli 7.000 euro dichiarati al fisco nell'anno 2012 e spieghi infine quanti soldi pubblici ha incassato negli anni precedenti e come dall'assessorato regionale all'agricoltura e dall'azienda speciale Molise Acque dove è stato anche componente del Consiglio di Amministrazione. Arriva intanto anche la dura presa di posizione dei 15 dipendenti dell'Agenzia che appartengono alla categoria protetta, vincitori di concorso e licenziati anche loro. È l'accanimento contro i più deboli. Hanno denunciato invece di essere tutelati, veniamo scaraventati in mezzo a una strada, chiediamo che qualcuno possa aggiungere in nostra difesa categoria di sconfitti dalla vita e ora anche dalla protezione civile. Hanno concluso. C'è stato un sit-in del Comitato Antica Morra e di altre associazioni davanti al Palazzo di Giustizia di Larino. I rappresentanti hanno espresso solidarietà per la carenza di magistrati, hanno presentato un esposto denuncia sull'eolico in Basso Molise. Non ci fidiamo degli altri tribunali. Ha detto Emilio Izzo, il servizio è di Fabrizio Occhionero. Solidarietà ai magistrati per la carenza di personale al Palazzo di Giustizia di Larino in esposto denuncia sulla questione eolico in Basso Molise. Il Comitato Antica Morra, l'Associazione Caponnetto, il Partito Comunista dei Lavoratori e altre realtà associative a difesa del territorio hanno manifestato davanti al Tribunale Frentano, un luogo affermato in Emilio Izzo, dove la giustizia funziona. Perché non vi fidate di altri tribunali? Beh, intanto perché da oltre tre anni dal Tribunale di Campobasso, piuttosto che aver risposto sull'eolico, abbiamo avuto soltanto nebbia, abbiamo avuto soltanto insabbiamento e a dir poco. Poi la vicenda magistrato Papa la dice lunga, insomma, cioè l'unico magistrato che dava un senso a quel palazzo è stato fatto fuori ignobilbente, mandato altrove, per quanto al momento è congelata la sua posizione, ma noi stiamo preparando attraverso alcuni parlamentari, non molisani, un'interrogazione molto pesante su quel caso. Ma non c'è solo l'aspetto della protesta. Con l'esposto, i manifestanti hanno chiesto alla Procura di fare luce sugli aspetti poco chiari delle convenzioni che riguardano gli impianti eolici. Ci aspettiamo quello che non è successo altrove, che qui si capisca come un Comune possa firmare delle convenzioni dando delle anticipazioni, come dire, ricevendo delle anticipazioni dalla società per pagare il personale del Comune, come si possa chiedere in queste convenzioni di sottoscrivere una dicitura del tipo che l'amministrazione si impegna a zittire la cittadinanza e a non fomentare iniziative che possono essere contro questo tipo di iniziative. Ecco, questo è un attacco alla democrazia. Chiederemo di indagare anche su un giro di paleoliche che sono transitate per il porto di Gaeta con prevenienza Trapani e sono arrivate nel Molise ed oltre. E tra le altre cose i promotori dell'iniziativa si aspettano risposte anche dalle indagini che riguardano le spese dei gruppi in Consiglio regionale. Anche i comuni più piccoli e le imprese possono accedere direttamente ai fondi comunitari per lo sviluppo e per l'energia. Non c'è più bisogno di passare per le regioni. La novità è stata illustrata a Isernia dall'eurodeputato del Partito Democratico Massimo Paolucci. Anco Renzo Di Gaetano. Non ci sono porte chiuse in Europa per comuni e piccole e medie imprese. Oggi è possibile beneficiare direttamente dei bandi comunitari per lo sviluppo, la ricerca e l'energia. La parola d'ordine però è unione essenziale che comuni e imprese si alvalgano di task force specializzate senza spendere cifre enormi per avere dei corrispondenti a Bruxelles. Basta essere aggiornati, servirsi di tecnici preparati e tagliare i costi associandosi. Lo ha detto Massimo Paolucci, eurodeputato del Partito Democratico che a Isernia insieme a Danilo Leva ha incontrato gli amministratori comunali. L'Italia ha storicamente poca attenzione per queste questioni. Io sto da un mese e mezzo nel Parlamento europeo. I tedeschi, oltre ad essere forti come nazione, oltre ad essere preparati, hanno 2000 persone a Bruxelles che lavorano su questi argomenti. 2000. Che seguono stabilmente i bandi da quando si iscrivono a quando escono, che seguono le pratiche. Ecco, noi dobbiamo costruire una rete meridionale per aiutare i comuni, ma ripeto, non soltanto i comuni. Una piccola impresa, forse solo in Europa può trovare i soldi. Un agricoltore che ha prodotti tipici, solo in Europa può trovare fondi. Allora dobbiamo creare una struttura di supporto. I comuni da solo non ce la fanno, mettiamo insieme le energie migliori che abbiamo in queste terre per fare un'azione di supporto. E un'azione anche che crea lavoro. Senta, ma quali sono i settori su cui l'Europa interviene a livello finanziario in misura maggiore? Quali sono le strade da seguire? Ecco, gli orientamenti. L'Europa ha un'attenzione incredibile per tutto quello che sono le questioni ambientali. Quindi tutti i temi che riguardano il risparmio energetico, l'efficientamento energetico, le fonti rinnovabili. E poi ricerca, ma ricerca non in astratta, applicata per aiutare lo sviluppo di piccole e medie imprese che abbiano sempre un impatto ambientale sostenibile. C'è un capitolo importantissimo che riguarda l'agricoltura specifico che è tagliato non soltanto per le aziende di grandi dimensioni ma anche per le piccole imprese. C'è un lavoro enorme da fare nelle scuole. Io non so quante scuole conoscono e utilizzano i fondi europei. È possibile costruire esperienze didattiche internazionali. è possibile avere scambi di esperienze formative tra gli studenti. Io credo che il nostro primo imperativo è informare e informare per tempo perché in molti casi non c'è mancanza di volontà o incapacità ma l'Europa è una cosa astratta della quale non conosciamo concretamente gli elementi. In questi giorni si parla tanto di flessibilità. Mentre si discute di flessibilità nei prossimi mesi l'Europa deciderà sulle OGM deciderà sull'apertura del libero mercato tra Europa e America significa per i nostri produttori la possibilità di andare a vendere in America senza dazzi del 40%. Deciderà le regole che riguardano gli impianti industriali medi e piccoli. Deciderà su tutto. Lì dobbiamo stare e dobbiamo stare insieme. È di 10 denunce il bilancio di un'operazione di controllo su tutto il territorio della provincia di Isernia da parte dei carabinieri. In particolare a Benafro è stato segnalato un 25enne di Piedimonte Matese per furto di materiali sanitari in una clinica. A Rionero Sannitico un uomo di 53 anni è stato denunciato per minacce alla ex moglie mentre a Pizzone tre persone originarie della provincia di Napoli sono accusate di truffa e falso. Hanno cambiato residenza per ridurre l'importo dell'assicurazione delle loro auto. un pellegrinaggio a piedi sulla via francigena dall'abbazia di Monte Cassino a Venafro ha dato lo spunto per riflettere sulle potenzialità turistiche del territorio. Ce ne parla Sergio Di Vincenzo. A piedi dall'abbazia di Monte Cassino a Venafro ispirato dalla via francigena. Protagonista di questa iniziativa è stato Michele Del Giudice già impegnato in altri importanti pellegrinaggi su tutti quello di Santiago di Compostela. ha scelto questa terra anche per lanciare un messaggio. Il Molise è una delle regioni più belle italiane io la definisco una regione baciata da Dio a tutto non manca niente a arte a storia a natura paesaggi stupendi un'alimentazione eccezionale una storia notevolissima che cosa può mancare a questo territorio? e i nostri amministratori devono pensare proprio a questo. Durante l'incontro organizzato alla Villa Comunale Monsignor Claudio Falumbo vicario della diocesi di Sernia Venafro ha parlato anche dell'eredità spirituale lasciata dal periodo dei grandi pellegrinaggi medievali. La spiritualità è rimasta perché i vescovi italiani hanno scritto una lettera ai cercatori di Dio cercatori di Dio sono non soltanto i cristiani battezzati ma sono tutti gli uomini assetati di verità e di giustizia ed in questo è un desiderio dello spirito e le domande profonde sono domande di senso e dunque domande dello spirito e dunque la spiritualità è rimasta bisogna soltanto saper dare un nome e una forma più circostanziata. Aspetti religiosi a parte la via francigena racchiude importanti potenzialità dal punto di vista turistico. Dare la possibilità ai visitatori ai pellegrini insomma ai turisti di poter valutare toccare con mano quelle che sono le nostre bellezze culturali artistiche architettoniche ma soprattutto anche la valorizzazione di quelle tradizioni enogastronomiche possono essere insomma quell'elemento aggiuntivo che in qualche modo in questo momento particolare allevia le difficoltà delle nostre famiglie ma soprattutto delle nostre imprese. In questa occasione si è parlato di un altro progetto riservato ai turisti quello del Molise in miniatura da realizzare proprio nella villa comunale di Venafro grazie anche al coinvolgimento delle scuole e degli artisti locali. Per quanto riguarda la logistica ed i tempi sono semplicemente i tempi tecnici in quanto il comune partecipe di questa iniziativa bisogna semplicemente partire e niente saranno i tempi veloci quelli tecnici i minimi che ci sono per cui è da decidere e da definire ma nei tempi più brevi possibile. E ora andiamo a Roma dove si è svolto un tavolo tecnico sul rischio idrogeologico e sulla depurazione e tutela delle acque. Hanno preso parte all'incontro Paolo Frattura presidente della regione Molise e Pierpaolo Nagni assessore regionale ai lavori pubblici alle infrastrutture. Dall'incontro emerso come il Molise sia l'unica regione d'Italia a registrare un'altissima qualità dell'acqua e per questo motivo non sarà colpita dalle sanzioni previste dall'Unione Europea e per questo motivo hanno fatto notare i tecnici del Ministero il Molise sia anche distinto per gli eccellenti dati registrati nel settore dell'ambiente. Un cartellone ricco di eventi con grandi nomi per la 24esima edizione del Lady Lang Jazz Festival dal primo al 29 agosto appuntamenti non solo al Castello Pignatelli di Monteroduni ma anche in molti altri centri della regione sentiamo Tonino Danese dal primo al 29 agosto grande musica Lady Lang Jazz Festival che taglia il traguardo delle 24 edizioni un evento organizzato da Lady Lang Blue Music con la collaborazione dell'Associazione Culturale Via Nova il sostegno della regione e dei comuni dove si svolgeranno i concerti contenti di aver contribuito a un evento di grande qualità ha detto il governatore Frattura perché investire in cultura significa promozione ma è importante anche per una ricaduta occupazionale la musica protagonista assoluta al Lady Lang Jazz Festival ma anche dunque la promozione del territorio della storia dell'enogastronomia con cene e spazi dedicati ai prodotti molisani di eccellenza l'1 e il 2 agosto si parte in piazza Sant'Eusanio a Monteroduni apriamo con una finestra sui giovani con Alessandro Apparente Luca Guidarini e Gabriele Cianfrani che sono giovani musicisti venuti fuori da nostri corsi Monteroduni cuore della manifestazione in primo piano poi dal 5 al 9 agosto al castello Pignatelli grandi nomi tra cui Eumir Diodato l'8 e sabato 9 l'attore Enzo De Caro con Antonio Onorato si apre con una serata dedicata al Gypsy Jazz con Angelo De Barri il numero 1 in assoluto in Europa nel genere poi c'è Eumir Diodato e il progetto di Antonio Onorato con Enzo De Caro che ce l'avranno il grande Chet Becker insomma questi sono i nomi di spicco poi altri nomi non secondari e assolutamente da seguire come Martin Taylor il principe della chitarra jazz tradizionale d'ortodossa Thorstein Woods e Dean Bowman per una serata dedicata alle voci il filo conduttore almeno nelle serate a Monteroduni è sempre quello della chitarra concerti anche in altri centri molisani il 3 agosto a Venafro il 4 a Cerro al Volturno il 12 a Larino il 18 a Campomarino il 22 a Boiano il 28 a Santa Croce di Magliano e Gran Finale il 29 agosto a Termoli in piazza del Duomo con i Manhattan Transfer il 4 agosto siamo al Castello Pandone Cerro al Volturno il 12 ci sarà Nicola Conte jazz combo e DJ set di Nicola Conte a Larino piazza Duomo e poi nella corte del Palazzo Ducale il 18 agosto una super star uno dei gruppi con la cui musica mi sono formato James Taylor Quartet poi saremo a Boiano in piazza Roma con Anna Williams e the Test Maker il 28 agosto Santa Croce di Magliano Monte Fiori Cocktail e la chiusura con delle vere superstar il 29 agosto in piazza del Duomo con i Manhattan Transfer il concetto è questo all'esterno togliere l'etichetta di musica di Nicchia al jazz e ora ci spostiamo a Riccia per la presentazione della decima edizione del Folk Festival la rassegna di musiche e danze popolari organizzata dall'associazione culturale Giuseppe Moffa appuntamento dal 7 al 10 agosto i particolari con Marcella Tamburello Riccia nel mondo è il mondo a Riccia un festival internazionale di musica folk ma non solo è un po' questo il senso del Riccia Folk Festival aggiunto la decima edizione ed organizzato come sempre dall'associazione culturale Giuseppe Moffa una vera e propria rassegna internazionale di musica e danza etnico popolari in un viaggio tra culture e tradizioni diverse che a Riccia si incontrano e si confrontano dal 7 al 10 agosto il paese del fortore si animerà con diversi colori attraverso la presenza di gruppi provenienti da tutto il mondo tutto questo è possibile anche perché c'è una squadra che lavora dietro a questo un grosso lavoro fatto di tanti giovani una cosa mi sento dire il gruppo folcloristico di Riccia oltre a svolgere la sua attività culturale di folklore svolge una grossa attività sociale il gruppo è stato in tournée 8 giorni in Olanda andrà in Sicilia a Ferragosto ma attira tanti giovani e il punto focale è quello che questi giovani sono una grossa risorsa per poter realizzare queste grandi ed importanti manifestazioni manifestazioni oramai che sono un punto di riferimento per l'intero fortore e per tutto il Molise tant'è vero che nei colloqui che ho avuto per i contatti dei gruppi nel circuito dei folk festival italiani il Riccia Folk Festival è conosciuto oramai da tutti non solo musiche danze e popolari il Riccia Folk Festival è anche incontro di sapori con l'enogastronomia locale e di cultura con la proiezione di docufilm e mostre pittoriche l'obiettivo nostro è quello comunque come ripeto da più anni anche in queste in queste occasioni è quello di creare gli scambi culturali tra la nostra manifestazione e le analoghe manifestazioni che si tengono all'estero e che ci vedono appunto protagonisti in un meccanismo di scambi culturali a livello internazionale che interessano tutto il mondo abbiamo visitato negli ultimi dieci anni quasi tutti i continenti ci manca ci manca l'America che abbiamo visitato prima di questa situazione ma contiamo a breve insomma abbiamo dei contatti che penso che a breve ci porteranno anche a tornare in America come l'abbiamo fatto in passato e a disernia è stata creata un'associazione in ricordo di Francesco Casale il collega scomparso un anno fa l'obiettivo è quello di promuovere iniziative legate alla comunicazione e alla cultura vediamo appassionato di politica seguiva con impegno e passione anche la nera e la giudiziaria ma più che per sottolineare le sue qualità professionali l'associazione dedicata al collega Francesco Casale nasce soprattutto per ricordare un amico abbiamo deciso di costituire l'associazione Francesco Casale con un gruppo di colleghi per commemorare al meglio il nostro amico e collega scomparso ormai un anno fa l'associazione si propone di organizzare eventi culturali dibattiti e tutto ciò che diciamo possa avere attinenza con il giornalismo l'informazione e la comunicazione che era la grande passione di Francesco l'obiettivo dell'associazione è quello di promuovere una serie di iniziative che richiamino anche le sue grandi passioni saranno infatti proposti dei cineforum e incontri dedicati al jazz mentre a breve sarà istituito un premio giornalistico riservato alle scuole la settimana prossima intanto sarà promosso un incontro sul giornalismo d'inchiesta martedì prossimo 29 luglio in piazza Celestino V con un convegno dal titolo circuito mediatico giudiziario quando l'inchiesta diventa fiction avremo con noi Carmelo Abbate di Panorama e Maria Corbi della Stampa due importanti giornalisti d'inchiesta la dottorista Rossana Venditti sostituto procuratore della Repubblica di Campobasso il presidente dell'ordine giornalisti Antonio Lupo e il presidente della sostampa Molise Giuseppe Di Pietro anche il comune di Serni ha deciso di sostenere questo progetto l'associazione avrà una sede all'interno di Palazzo San Francesco e con il ricordo del nostro collega Francesco Casale scomparso un anno fa termina anche l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise ed io vi saluto come sempre grazie perché scegliete la nostra informazione buonanotte di Telemolise